Riprendiamo la seduta e diamo la parola all'Onorevole De Carlo. Grazie Presidente. Io approfitterò questi stringati minuti che la maggioranza e il Governo mettono a disposizione dell'opposizione per ringraziare innanzitutto tutti quegli operatori che in questi mesi hanno lenito questa situazione di disagio sui medici, agli infermieri, sì, ma anche a tanti operatori sociosanitari ed anche ai sindaci e agli amministratori locali. Sindaci ed amministratori locali a cui abbiamo chiesto uno sforzo ancora più grande di quello che svolgono e si sobbargano normalmente nell'ordinaria amministrazione di un comune. È un dato di fatto oggettivo che negli anni siano diminuite le risorse, siano aumentate esponenzialmente le responsabilità e che di fatto ormai la vocazione di fare il sindaco sia diventata una vera vocazione. E quindi non più un trampolino di lancio per, magari nelle grandi città, per arrivare a ruoli più ambiti, ma vocazione, servizio a favore delle proprie comunità. Vedete, qui non ci sono differenze tra sindaci e amministratori di destra, sindaci e amministratori di sinistra. Ci sono amministratori che ovunque e su tutto il territorio italiano si sono spesi in questi giorni, hanno dato il meglio di se stessi, spesso abbandonati dal governo. Almeno questa è la percezione che hanno avuto. Perché? Perché di fatto questa continua esposizione mediatica, questi DPCM, questi colpi di FAC che hanno messo i sindaci in continuo disagio rispetto anche al proprio personale della Polizia Locale, ma anche alle forze dell'ordine che oggettivamente si trovavano nella condizione di dover e di poter interpretare quelle che erano le norme scritte non chiare e che si prestavano appunto ad un'interpretazione molto ampia. Chiaro, abbiamo ridotto, avete ridotto fortemente la libertà di circolazione dei cittadini. Avete lasciato ai sindaci sui territori l'onere di fare gli sceriffi. Un onere che i sindaci in tante città e in tanti paesi si prendono volentieri davanti alle lacune dello Stato, soprattutto sulla criminalità, sullo spaccio, come è accaduto e accade a Padova, dove la gente deve rimanere in casa ma gli spacciatori possono girare liberamente perché nessuno li controlla e c'è una forma di tolleranza nei confronti di chi delinque. Ma i sindaci che non fanno a volte gli sceriffi, anche quando le norme non le comprendono, una su tutte, pensate come possa comprendere un cittadino o un mio paesano di Calazzo di Cadore, 806 metri sul livello del mare, quando gli si dice che deve rimanere in casa e deve evitare la passeggiata nel bosco. Ecco, è evidente che ciò che è assolutamente comprensibile è che non c'è nessuna forma o pericolo di contagio quando uno se ne va a camminare nel bosco, almeno è molto meno la forma e la paura del contagio rispetto ad andare, per esempio, ad un supermercato. Ma noi che siamo sindaci e le forze dell'ordine sanno che si obbedisce anche ad un ordine sbagliato, anche quando quell'ordine non è il bene dei propri cittadini, ma è responsabilmente qui. La responsabilità che è una delle parole in assoluto più abusate anche qua dentro, lì sì, si vede. Perché quando tu riesci a far applicare una norma che non comprendi, che non comprendono i tuoi cittadini ma per primo non comprendi nemmeno tu, beh, allora vuol dire che tu hai un forte radicamento su quel territorio, vuol dire che non sei solo uno sceriffo, vuol dire che tu sei il punto di riferimento della tua comunità che capisce e capisce la situazione anche in cui tu sei. Noi abbiamo pochi strumenti, lo abbiamo detto, avremmo voluto incidere molto di più rispetto a questi temi, a temi vicini alle amministrazioni locali e ai sindaci. Non ci avete dato la possibilità, avete azzerato gli spazi democratici. Oggi abbiamo solo la possibilità di dirvelo in un'aula che è lo specchio del comportamento che il Governo ha tenuto in questi mesi. Di PCM scarso, anzi nullo dibattito in Parlamento e a noi solo l'opportunità in discussione generale prima di apporre la fiducia di poter dire e di poter anche essere costruttivi rispetto a delle tematiche che noi, io che faccio il sindaco, magari ho la presunzione di conoscere molto più di qualche ministro e di qualche sottosegretario. Ripeto, ai comuni avete dato un onore pesante. Io ho assistito, quasi imbarazzato, alla conferenza stampa del primo ministro Conte in diretta Facebook dove annunciava 4 miliardi e 3 di risorse per i comuni come se fossero nuova liquidità a disposizione degli enti locali. Omettendo di dire che si trattava semplicemente un'anticipazione di cassa, di un fondo di solidarietà che i comuni contribuiscono a creare che l'anno scorso addirittura furono arrivati ai comuni in percentuale addirittura maggiore quest'anno il 66, l'anno scorso al 70% e che addirittura l'anno scorso arrivarono ben 20 giorni prima. Ecco, un'omissione che ha messo in difficoltà tanti comuni perché tante persone hanno bussato il giorno dopo, colpite e morse da questa crisi, nei municipi a chiedere, dicendo, ieri il governo ha annunciato che ci sono 4 miliardi e 3 in più a disposizione dei comuni. Valla a spiegare tu, umile sindaco di un paesello, che quelli non sono risorse aggiuntive ma che l'uniche risorse aggiuntive erano, e comunque io da sindaco non ho mai sputato nel piatto in cui mangio, per cui 400 milioni di euro sono 400 milioni di euro in più di quelli che avremmo avuto. Probabilmente non sono, e sicuramente non sono abbastanza per contrastare questo disagio, ma ci sono. Semmai potremmo discutere se quei 400 milioni dovessero essere destinati solamente a pacchi alimentari, a buoni spesa o a buon impasto. Perché non avremmo potuto, a costo zero, poter dare la possibilità ai comuni di aggiungere altre risorse e poter utilizzarli anche per i bonus bollette, per il bonus affitti, per colmare quella grossa deficienza che esiste in tanti territori, che è quella addirittura delle connessioni a internet. Negli stessi giorni in cui usciva questo decreto, usciva drammatico un dato Istat che diceva che un italiano su tre non ha accesso ad internet, non ha strumenti per accedere a internet. Ci rendiamo conto della drammaticità di questo evento, anche quando parliamo di scuola a distanza, quando ci sono ragazzi che non possono nemmeno, ma perché non hanno nemmeno avuto la possibilità di acquisto e nemmeno la capacità di impararlo. Beh, insomma, credo che sul territorio poi ci siano stati degli esempi. Io in Veneto ho chiesto e ho tenuto da 110 amministratori la firma su un documento che chiedeva molto umilmente al Ministro non risorse in più, solamente di poterlo utilizzare anche, ripeto, per questi scopi. Fondo bollette, fondo affitti e anche il prestito d'onore. Perché il prestito d'onore, Presidente? Perché in un momento di difficoltà come questo, oggi non sono in difficoltà quelli che abbiamo già, quelli che sono già conosciuti dai nostri servizi sociali. Oggi c'è una nuova povertà che è quella del commerciante che non apre da due mesi, dell'imprenditore che è in difficoltà a pagare i propri fornitori. Noi a quelli siamo sicuri che se facciamo un prestito d'onore con risorse del Comune, quelle non sono risorse a fondo perduto. Sono risorse che quell'imprenditore che fino ad oggi ha contribuito a mantenere il nostro tessuto sociale dei nostri Paesi e con le sue tasse ha contribuito ad erogare servizi anche per chi non poteva, siamo sicuri che quelle risorse ci sarebbero tornate indietro e nel più breve tempo possibile. Lo abbiamo chiesto con umiltà, con assoluta umiltà che ci ha sempre contraddistinto, ma non abbiamo ottenuto risposta. Come diceva giustamente il mio collega De Ida, noi non abbiamo nemmeno avuto risposta a un altro strumento che i deputati hanno a disposizione, e cioè le interpellanze e le interrogazioni. Presidente, è imbarazzante che noi abbiamo solo questi strumenti da parte che ci mette a disposizione la maggioranza e noi non possiamo, nemmeno quando ci chiedete di farli in maniera telematica, nemmeno quando abbiamo la possibilità di condividerli con i nostri colleghi, magari anche direttamente, noi non riusciamo nemmeno a presentare delle interrogazioni e vederci dare delle risposte. Scusi, onorevole De Carlo, sta disturbando un attimo una conversazione. Mi scusi, collega Vartozzi, se la disturbo, adesso finisco tra pochi minuti. Scherzo, ovviamente. Quindi l'unico strumento che abbiamo per poter fare anche oggi delle proposte in aula è questo, questa discussione generale che non ci ludiamo possa farvi cambiare idea sul vostro modus operandi perché è comodo, ripeto, oggi è comodo legiferare ADPCM, non ascoltare mai le opinioni degli altri, non prenderle in considerazione, anche se noi abbiamo qui sì la presunzione di potervi essere molto utili, proprio perché magari le cose le conosciamo. Quindi ve le regaliamo, ve le diciamo. E questo non è quello solo che diciamo noi e che dicono i sindaci di Vartelli d'Italia, ma sono documenti che i sindaci sottoscrivono su tutto il territorio nazionale e sottoscrivono senza colori e senza bandiere. Allora ti chiediamo una vera anticipazione di cassa per avere una liquidità dalla cassa depositi e prestiti, per far fronte a tutte quelle nuove problematiche che ci sono e soprattutto per quel problema grandissimo della liquidità che non pervade solo la sfera privata e dell'impresa, ma anche quella dei comuni. Perché se noi vogliamo veramente eliminare tari e tasi a quelle aziende che oggi oggettivamente per colpa, non per colpa, ma a seguito di un decreto, non possono operare, noi dobbiamo avere l'anticipazione intanto per continuare ad avere le risorse per fornire altri servizi. E poi dobbiamo avere la certezza da parte dello Stato che quella parte di risorse che noi non incassiamo vengono assolutamente ristornate da parte dello Stato, altrimenti noi mettiamo i comuni assolutamente in ginocchio. Dobbiamo essere in grado, sempre con la stessa formula, cioè avendo una copertura da parte dello Stato, di riuscire a discludere l'imposta sulla pubblicità e quella sull'occupazione del suolo pubblico. È evidente che oggi tante amministrazioni lo stanno già facendo, altre lo stanno già pensando, ma devono fare i conti con gli equilibri di bilancio. Noi dobbiamo garantire loro di poterlo fare, sia per loro ma soprattutto anche per tutte quelle imprese che oggi oggettivamente sono assolutamente in difficoltà. Poi chiediamo che l'avanzo libero, cioè quello non vincolato, possa essere utilizzato per qualsiasi spesa, non solo nel 2020, ma anche nel 2021 e nel 2022. Che tutte le entrate che ci arrivano, al di là di quelli pochissimi casi specifici, non abbiano nessun vincolo di utilizzo, per cui si possano utilizzare per contrastare fortemente questa situazione di disagio. Un'altra operazione assolutamente a costo zero è la riduzione della percentuale di accantonamento al fondo di crediti di dubbia esegibilità. Non costituisce un costo oggi a carico del bilancio dello Stato, semplicemente allenta il nodo che sta strangolando tanti comuni. Poi c'è un rimborso, quello sì, un rimborso vero, di tutte quelle mancate entrate che i comuni avranno e sono quelle del codice della strada. Che è vero che in tanti comuni, io non ho quella filosofia di fare cassa con le entrate, con i proventi del codice della strada, però è oggettivo che in tanti comuni quelle servono, anche perché vincolate a destinazione e a miglioria della viabilità. Ma anche le addizionali IRPEF. Oggi chi sarà in grado di pagare le tasse? Chi? Quale imprenditore? Quale persona fisica presente sul territorio? Una percentuale veramente esigua. E poi i fondi, quelli relativi alla sanificazione dei comuni, quelli del decreto legge del 17 marzo scorso, ecco anche quelli, sono 70 milioni. Noi chiediamo che questi fondi, che sono assolutamente insufficienti, anche perché questi sono per la sanificazione dei locali, ma i comuni hanno già sostenuto tantissime spese, anche solo per l'acquisto dei DPI, mascherine, guanti e quant'altro, di cose che servivano ai comuni stessi, ma anche alla popolazione. Io stesso ho fatto questa operazione cercando di utilizzare il meno possibile i fondi del Comune, ma noi abbiamo cercato di coprire, e anche grazie a tanti volontari che vanno ringraziati, sia la distribuzione che l'effettiva produzione di queste mascherine. Rinvio anche del metodo ARERA al 2022. I comuni oggi non sono in grado, Presidente, di poter adottare le procedure previste apposta da questo nuovo tariffario. E poi il TPL, il trasporto pubblico, gli bisogna aumentarlo il fondo, altrimenti bisogna riequilibrare quei contratti di servizio che ci sono anche con i privati, a fronte di una forte riduzione di introiti, se la gente non si muove, non entrano nelle casse del trasporto pubblico. Una proroga del pagamento della quota capitale dei mutui almeno di un anno, e quel risparmio si è destinato sì all'emergenza Covid, ma anche agli equilibri di bilancio. E quando il bilancio, comunque, dopo aver fatto anche finanza creativa, come capita di fare spesso quella buona a tutti i sindaci, quando non è possibile chiudere il bilancio, dobbiamo essere messi anche nelle condizioni di poter contrare un prestito. Un prestito a lungo termine, ma che ci consenta di chiudere i bilanci che oggi non sono più viziati da opere faraoniche o quant'altro. Tutti i colleghi sindaci hanno ormai destinato la maggior parte delle risorse a contrastare il Covid. E quindi, a chi proprio non ce la fa, va data la possibilità di contrare i mutui. Vedete, queste sono proposte serie. Io sono anche conscio che molti in quest'Aula non abbiano nemmeno gli strumenti per capire i tecnicismi che ho letto. Perché molti non hanno mai avuto la fortuna, come ho avuto io, di amministrare. Qualcuno non ha amministrato nemmeno fino adesso la cuccia del cane. Per qualcuno, aver amministrato è qualcosa addirittura di cui vergognarsi. Quasi un'onta. Avere fatto esperienza nei comuni, nelle province, nelle regioni, diventa appunto qualcosa di cui ci si debba vergognare. E non una condizio sine qua non per rivestire ruoli diversi. Per crescere anche nella propria formazione politica. Sì, diciamocelo. Perché qua dentro noi dobbiamo fare politica. E la nostra passione della maggioranza delle persone che sono qua dentro è quella di fare politica e di risolvere i problemi delle proprie comunità attraverso le scelte politiche. Per qualcuno fare politica magari è solo criticare gli altri. Lo vediamo nei comuni, ma lo vediamo anche nelle aule parlamentari. È linkare un tweet, è affidarsi ad un blog come se fosse oro colato. Per qualcuno invece fare politica è radicarsi sul territorio. È essere e diventare punti di riferimento delle proprie comunità. Ecco, questi sono i sindaci e questi sono gli amministratori locali. Quelli sempre in prima linea, seppur tra mille difficoltà, mille ostacoli, quelli che scelgono di darci da fare. Quelli a cui squilla il telefono proprio perché sono punti di riferimento. Quelli a cui, dopo dieci volte che squilla il telefono, girano anche le scatole, oggettivo. Chi non l'ha detto? Quelli che sbuffano quando suonano il telefono. Quelli che poi si rendono conto che è proprio la natura dell'essere punti di riferimento che ti porta a rispondere a quel telefono. A volte anche a rispondere male. Ma si sa, ogni volta che qualcuno chiama quel numero dei sindaci che a volte, guardate, è anche appeso come il mio amico Gio Formaggio lo appende al balcone del municipio. Altri lo mettono su tutti i muri. e quindi quelli sono quella grande ossatura che costituisce la vera politica e che credo che da cui noi dobbiamo assolutamente ripartire. Questa appunto è servizio, questa è politica e stride purtroppo e non è capita da tutta questa gente che si dà da fare nei comuni e nelle amministrazioni e stride con il teatrino penoso delle nomine dei giorni scorsi. In un momento di difficoltà come questo da una parte ci sono gli amministratori locali e dall'altra quelli che si spartiscono determinate poltrone. Ecco, io ho scelto di essere il sindacalista della parte che sta sul territorio e che è punto di riferimento di quel territorio. Come pensate però che i sindaci, gli amministratori locali possono avere fiducia nel governo ma possono addirittura avere fiducia in noi. Quando se si aprisse la telecamera si renderebbe conto che della maggioranza presente in Aula sono pochi e mi dispiace anche che manchi il fotografo ufficiale della maggioranza, l'onorevole Sensi che è sempre così sensibile a fare le fotografie quando mancano quelli dell'opposizione e che evidentemente oggi non può fotografare perché manca addirittura lui. Grazie Presidente. Grazie onorevole De Carlo. Grazie a tutti.